Sì, sul rapporto Stato-Partito nel ventennio ci sono molti studi proprio per comprendere se c'è stato un totalitarismo perfetto o imperfetto, fino a che punto il fascismo è stato totalitarismo, fino a che punto si è avuto uno Stato di partito oppure un partito subordinato allo Stato. Si fa riferimento di frequente ai telegrammi, alle circolari di Mussolini già nel 1923 e poi nel 1927 in cui Mussolini come capo del governo stabilisce che sia il prefetto ad avere la supremazia sul partito che ancora si sta muovendo nella società a volte con qualche carattere, soprattutto nel 1927 è ancora squadristico quando non dovrebbe più esserci, queste forme non dovrebbero più esserci, dunque lo Stato dovrebbe avere la supremazia sul partito. La nascita della milizia volontaria per la sicurezza nazionale dovrebbe rappresentare questo aspetto in cui Stato e partito trovano una sorta di sintesi. Lo Stato si fascistizza grazie alla milizia che diventa un corpo dello Stato, ma nello stesso tempo il partito diventa Stato proprio perché non ha più il carattere del movimento spontaneo delle squadre, ma è inquadrato gerarchicamente con una struttura voluta e interna allo Stato. Le analisi sul periodo fascista mostrano come il partito tenti di avere sempre un suo spazio, anche se non può più avere uno spazio di decisionalità politica a livello decentrato autonoma rispetto a quelle che sono le scelte del centro. È il centro, secondo me il dato di fondo è che con il fascismo è il centro che acquisisce, diventa il perno e dal quale devono discendere poi le varie articolazioni. Il partito però, per Mussolini lo ribadierà, è il raccordo fra Stato e popolo e popolazione. Fra che è dentro lo Stato, perché alla fine del 1937 lo inserisce completamente dentro lo Stato, ci sarà appunto il riconoscimento giuridico, il segretario del partito diventa Ministro, segretario di Stato, quindi entra nel Consiglio dei Ministri, in più in tutti gli enti le associazioni, man mano poi in fine anni 30, inizio anni 40, sempre di più a piovra il partito avrà questa prerogativa ed è sia Stato sia popolo, ma deve essere questo anello di congiunzione fra gli uni e gli altri e quindi dovrebbe immettere, dovrebbe portare al popolo quelle che sono le direttive dello Stato, nello stesso tempo dovrebbe filtrare i dirigenti per lo Stato e quindi il partito avrebbe questa funzione. È anche vero che molti prefetti diventeranno sempre più prefetti fascisti, perché c'è un'immissione di fascisti nel corpo dello Stato e quindi a vari livelli, nei vari ministeri e in particolare nel Ministero dell'Interno a cui fanno capo i prefetti. Dunque noi abbiamo l'inserimento di uomini del partito nelle prefetture e diventano prefetti. quello che conta però, a mio modo di vedere, è nel rapporto federali-prefetti, è il ruolo che si svolge, nel senso che ci può essere un prefetto fascista-fascistissimo il quale prefetto fascista-fascistissimo una volta inserito in quel ruolo risponde di quel ruolo e quindi anche se non era un uomo d'ordine in partenza lo viventa inserendosi in quel ruolo. Addirittura ci sono prefetti che dopo il 25 luglio del 43 gestiscono le decisioni del governo Badoglio e quindi gestiscono le decisioni rispetto alla soppressione del partito, rispetto alla chiusura delle sedi e così via. Lo stesso Dolphin, Giovanni Dolphin, che diventa il primo segretario personale particolare di Mussolini nei mesi della Repubblica Sociale, ha fatto questa scelta quando era appunto prefetto di Ferrara e quindi per dire come si può aderire alla Repubblica Sociale Italiana avendo questa esperienza. Nella Repubblica Sociale Italiana anche qui quello che conterà è il ruolo, poi conta diciamo ciò che avviene di fatto dentro la Repubblica Sociale Italiana. Abbiamo personalità ad esempio come si può fare il nome di Altini, Altini è nato nell'11 o nel 12, è uno dei giovani corporativisti se vogliamo chiamarli così, cioè quelli che negli anni inizi ai anni 30 si sono spesi per la giustizia sociale o per uno stato corporativo, il quale riapre la federazione di Ravenna, se la prenderà mandando lettere allo stesso Mussolini in cui appunto denuncia come non ci sia stata la sostituzione con fascisti di fede negli enti, nelle associazioni, nei consorzi, dopo 45 giorni di badoglio, ma come questi badogliani per così dire sono ancora in testa a questi uffici, a questi enti, associazioni e consorzi e vorrebbe un repulisti di tutti questi che è profittatori del fascismo, quindi un duro a questo punto, il quale verrà mandato poco dopo come capo della provincia ad Ascoli Piceno, viene mandato ad Ascoli Piceno e ad Ascoli Piceno diventa un uomo d'ordine, cioè ci saranno appunto squalisti che se la prendono anche con lui perché non fa quel repulisti ad Ascoli Piceno, quello che loro desideravano e ugualmente si comporterà quando sostituirà Vezzalini nella provincia, come capo della provincia di Ferrara. Dunque noi abbiamo questi percorsi, quindi uno non può dire c'è un duro, c'è uno che ragiona così e quindi immaginare che a metà dell'esperienza uno resti sempre quello che è. Gli eventi incidono e incide il ruolo che uno occupa e a chi risponde, per cui risponde a Buffarini Guidi, non risponde a Pavolini, risponde più al Ministero dell'Interno che non al Segretario del Partito. Nella Repubblica Sociale quando si decide da subito che nel primo Consiglio dei Ministri presieduto da Mussolini si decide la formazione di questa figura che dovrebbe riprendere quella tedesca in qualche modo perché non ci sia la diarchia tra Stato Partito, tra Federale e prefetto e quindi si crea questa figura di capo della provincia. Questo capo della provincia si chiarirà in alcune circolari che deve avere il benestare del Partito e del Ministero dell'Interno e poi risponderà al Ministero dell'Interno. Il benestare del Partito, cioè di Pavolini, del Segretario, non sempre sembra che sia avvenuto oppure se c'è diventa quasi un pro forma, è il fatto che è inserito in un luogo, in un ruolo e deve rispondere a certe richieste che sono richieste di un tipo rispetto a richieste di un altro tipo per cui uno anche molto duro può diciamo ammorbidirsi, ecco tra virgolette, non solo. Il capo della provincia deve rispondere ai tedeschi in prima istanza, qui c'è un'occupazione tedesca e questi devono rispondere ai tedeschi e i tedeschi vogliono una sola figura di riferimento, non vogliono tante figure, infatti i tedeschi vorrebbero un'amministrazione che funzionasse, l'amministrazione di Salò che funzionasse perché così fanno prima a gestire le cose, non dover passare dal segretario federale, da questo, da quella, avere una figura di riferimento e il capo della provincia deve soprattutto rispondere a queste richieste così come il Ministero dell'Interno e Buffarini Guidi deve rispondere alle richieste dei tedeschi e insisterà sempre con Mussolini intervenendo contro il partito perché il partito dicendo no dobbiamo tornare a una statualità, dobbiamo tornare a mettere in primo piano lo Stato, proprio per eliminare tutte le tendenze che sono centrifughe, non solo il partito nasce contro i profittatori e quanti hanno degenerato nei 45 giorni, chi ha degenerato nei 45 giorni? Fra l'altro la polizia, il corpo della polizia e soprattutto il corpo dei carabinieri, il corpo dei carabinieri poi è colpevole perché ha arrestato Mussolini e dunque i carabinieri sono infidi perché i carabinieri rispondono alla monarchia, rispondono al re, rispondono a Vittorio Emanuele III ma siccome sono pochi i militi che sono tornati sulla scena e come si controlla quel po' di ordine pubblico che va comunque gestito sul territorio c'è bisogno di alcune figure e quindi c'è bisogno dei carabinieri, allora si inventa la Guardia Nazionale Repubblicana in cui fondamentalmente sono questi due corpi milizia e carabinieri che devono confluire in questa nuova struttura. Ci sono anche dei corpi dello Stato tradizionali come i carabinieri o anche la polizia e Buffarini dirà questi sono corpi dello Stato e noi dobbiamo conservarli, cercheranno di fare di nuovo uno Stato con tutti i suoi crismi, però il fatto che sia avvenuta questa frattura peserà per tutto il periodo della Repubblica Sociale e anche avrà dei risvolti pesanti per la popolazione notevoli perché la sfiducia fra un corpo e l'altro genera il crearsi di tutte queste squadre, di tutti questi gruppi, questi reparti, reparti speciali creati da ciascun potere. Per cui come a Bologna il questore Tebaldi si farà il suo gruppo con Tartarotti alla guida, si farà il suo reparto speciale. Tartarotti era stato un comandante delle squadre di partito e quindi era nato così. Poi passa, se lo prende il questore, quindi dal partito passa lo Stato diciamo, se lo prende il questore perché è una persona capace di svolgere quel compito e Tartarotti svolgerà quel compito. Quindi avremo tanti gruppi, ognuno si fa come accusano Solaro a Torino e Solaro è responsabile del partito, lo accusano di avere un suo gruppo, di agire con dei propri squadristi eccetera e così altrove, accusano di... e ci sono questi gruppi che agiscono, dunque c'è un'insicurezza ulteriore perché non ci sono più i vecchi corpi dello Stato in grado di tutelare la popolazione civile, ma ci sono questi gruppi, questi reparti che dipendono anche da un questore, dipendono da un capo della provincia, il capo Vezzalini avrà i suoi, i suoi e non si fida degli altri e teme di poter essere fatto fuori. E qui l'assurdo, no? Cioè l'assurdo sotto certi profili poi, il fatto che siano... sono tutti inquadrati nello Stato fascista perché uno dipende da questore e dunque è inquadrato, sarà nell'organico, quel reparto di Tartarotti lo troveremo inquadrato nel Ministero dell'Interno. Carità sarà inquadrato, maggiore della milizia sarà inquadrato nella Guardia Nazionale Repubblicana, questo vuol dire che sono tutti inseriti dentro lo Stato, non sono bande autonome, come si è voluto dire, per cui è fatto di bande autonome, è chiaro chi controlla queste bande? Sono bande create dai singoli personaggi, personalità insomma nelle varie situazioni locali che rispondono solo a quella personalità, ma sono legittimate pagate e pagate perché entrano negli organici di una struttura, di un'altra, ma strutture statali, un Ministero o la Guardia Nazionale Repubblicana.